E' zoogame a tutti ragazzi come è oggi con unissimo video per presentarvi un tutorial speciale che non tutti sanno Ci si vede nel video e bella Oggi siamo in questo nuovo tutorial perchè tanto che non li facevo Ok ragazzi questo tutorial oggi parlerà di come creare un server Minecraft Può sembrare una cosa stupida però la maggior parte dei server almeno chi lo ha Nel senso chi lo ha proprio di tasca sua per chi non lo sa si devono pagare Invece oggi vi spiegherò come creare un server Minecraft del tutto gratis Allora intanto siamo su questo bel sito server.pro che troverete nel link in descrizione Intanto ringrazio server.pro per avermi dato l'opportunità di fare questo video Ci troveremo davanti a questa schermata ovvero l'home page Noi andremo a cliccare su get you server now Ok si aprirà una pagina Qui noi dovremo selezionare il gioco che vorremmo Eh ok andremo a cliccare in Minecraft normale Ok qui sceglieremo il nome del nostro server oppure diciamo l'host name Qui dovremmo mettere il nome del nostro host name ovvero il nome dell'host Io per esempio adesso a caso ho messo tutorial zuogame perchè sto facendo tutorial nel mio canale si chiama zuogame Coincidenze? Io non credo Andiamo avanti col video. Qui dovremo selezionare il nostro continente Noi non siamo in Nord America ma siamo in Europa Europa Ok qui se volete acquistare diciamo questo server dovrete premere premium Che vi darà molte più cose ma alla fine diciamo che sono cose essenziali Io comunque visto che comunque questo qui è un tutorial di come creare un server Minecraft totalmente gratis Ma guarda un po' andremo a cliccare free Ok qui dovremmo decidere la nostra modalità di gioco Io di solito a me piace più vanilla rispetto tipo a craft bucket A me non piace diciamo questa roba Quindi andremo a cliccare vanilla oppure se voi volete altre modalità basta cliccare insomma Qui decideremo la nostra versione di Minecraft La mia preferita per esempio è l'1.7.10 Poi andiamo a cliccare la memoria del nostro server Allora qui dobbiamo selezionare il ciclo che praticamente ogni quanto si risetterà il nostro server Ok qui ci dirà caratteristiche del nostro server Se avete comunque problemi vi invito sempre a scrivere qui sotto nei commenti Ok alla fine qui ci comparirà su questa scritta qua praticamente Tutto quello che abbiamo selezionato di questo server Allora il nostro continente è Europa Poi abbiamo scelto il tipo vanilla 1.7.10 Vi ricordo che potete mettere fino all'1.9.2 Oppure quando uscirà questo video sarà uscita già l'1.40 Ok giusto per farvi capire Poi avremo 0,5 gigabyte di memoria nel server Ok qui il gioco arriverà fino a 5 gigabyte Questo qui invece sarà diciamo la stabilità del server E qui il ciclo che sarà non mi chiedete cosa Comunque allora qui alla fine vi dirà price free Se invece sceglierete il premium in base a quello che avrete scelto Vi dirà il prezzo giusto insomma Poi qui infine per completare il tutto vi dovrete o registrare o fare login Registratevi e poi potete benissimo aspettare le posizioni Dovete aspettare tipo un pari posizioni da scalare Aspettate quei 20 minuti 10 minuti nemmeno E starterete il server Però nel prossimo video Allora però appena entrate dentro il server Vi darà un errore tipo riavvia il tuo gioco Ok non vi dovete preoccupare Perché è un problema che lo fa tutti quanti Dovrete andare a toccare delle impostazioni nel vostro server Che avete creato e l'avete startato Cioè l'avete startato E il fatto è che io visto che sono un maledetto nato Sono proprio un zoo game Ehm Se questo video arriverà entro una settimana a 20 like 20 like Io vi dirò la soluzione Invece se non arriverà entro una settimana a 20 like Voi non potrete giocare al vostro server Semplice la cosa ragazzi E niente detto questo Io vi invito E niente ragazzi Questo breve video si conclude qui Era solo diciamo un tutorial Un po' strano E un po' breve Giusto per farvi vedere come si crea un server Minecraft Senza sganciare il money E niente ragazzi Ci si vede in un nuovissimo video E su game a tutti E ah ce l'avate cascati 20 like Il prossimo video dove vi spiegherò la soluzione E niente ragazzi Ci si vede in un nuovissimo video E su game a tutti E su game a tutti Grazie.